Insolita lezione di storia nell'auditorium chiavarese. A parlare del territorio del nostro compressorio, dagli albori della storia, è stato il professor degli esposti, studioso dell'argomento. Presenti il governatore dell'associazione Elio Rossi, l'assessore comunale alla pubblica istruzione Marco Levaggi e un consigliere de' Ucastello, Luciano Cuneo. Verso il mezzogiorno è giunto all'auditorium l'assessore provinciale alla pubblica istruzione Antonino Schifano che ha portato il saluto dell'amministrazione provinciale e un plauso per l'iniziativa. Argomenti interessanti, quelli trattati da degli esposti e certamente non conosciuti da tutti. Forse, come abbiamo rimarcato alle 13 nella edizione pomeridiana del nostro videogiornale, se si potesse aggiungere un contributo di immagini, siano foto o filmati, i giovanissimi seguirebbero più volentieri quella che in ogni maniera rimane pur sempre una lezione di storia, anche se fatta in ambiente diverso dalle aule scolastiche. Questa non vuole essere certo una critica e ci sia consentito semmai un suggerimento. Domani saranno tre classi delle elementari diri a seguire l'evolversi della storia nel nostro tiguglio. Rimanendo in campo scuola, passiamo ad una iniziativa dell'assessore alla pubblica istruzione del comune di Chiavari, Marco Levaggi. A seguito di una nota sulle mense scolastiche diramata dai sindacati, in cui si sottolineava che forse per contenere il prezzo del pasto ne potrebbe soffrire la qualità, Marco Levaggi ha pensato di constatare di persona come vanno le cose nella mensa delle elementari Mazzini. Senza preavvisare, a mezzogiorno l'assessore si è presentato e si è fatto servire come gli scolari. Oltre a non essere morto per il pranzo, ci ha detto scherzosamente questo pomeriggio dottor Levaggi, ho voluto rendermi conto di come le scorte vengono conservate nei magazzini, lo stato di pulizia delle cucine, eccetera. Sono più che soddisfatto, ha detto ancora l'assessore. Inoltre ho avuto il primo contatto con il corpo insegnante. Certamente un'altra iniziativa degna di plauso.